All'inizio l'hanno venduta un pochettino così, l'hanno venduta a scompare Equitalia e sembrava che i cittadini italiani dovessero prendere la bottiglia di spumante e festeggiare. Poi sappiamo che scompare il nome Equitalia, ma poi alla fine le tasse le devi pagare, i debiti li devi pagare e alla fine non cambierà nulla più di tanto. Io prometto che non sono un economista, quindi di conseguenza mi ascolto e cerco di imparare anche dalle proposte che vengono fatte anche dagli altri. Per me l'importante è che se ne cominci a parlare e non sia solamente il cosiddetto libro dei sogni. Si cominci a confrontarsi, cominciano ad esserci degli economisti che possano spiegare ai cittadini italiani che la proposta si può fare, è fattibile e che si apra anche un tavolo di trattativa e si possa cominciare a ragionare per capire se si possono realmente abbassare le tasse. Perché fino a qualche mese fa la cosa che a me dava fastidio era il fatto che quando noi proponevamo la flat tax tutti ridevano.